Vediamo se riesco a sorprendere quelli di Amazon oggi. Si prende comunque sia la musica che vederla fare tutte queste cose, è molto difficile immagino. È veramente brava, mi ha dato sensazioni sicuramente molto piacevoli da vedere. Ci vengono proposti questi momenti di svago per rendere molto più piacevole il nostro lavoro. È un'esperienza che spero possa ricapitare perché merita, merita davvero tanto. Grazie a tutti. Sicuramente abbiamo iniziato la giornata bene e tutti di buon umore. È stato un break un po' diverso dal solito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.